I giornalisti conduttori che sono veramente deprimenti, che tu capisci perfettamente che non gliene frega assolutamente nulla e che vengono lì per fare copia conforme di altre cose che hanno esattamente fatto, capisci come è deleterio anche per la narrazione del territorio questo, perché tu non cogli assolutamente nulla se non quello che già hai in testa tu, che devi cogliere. Io chiamo amnesia dei luoghi, che ha prodotto uno stato che io chiamo neurovegetativo topografico. Diciamo che questo è un tipico paesaggio della Sila. Adesso ci sono otto persone soltanto che vivono in questo posto e infatti le case sono quasi tutte completamente disabitate e abbandonate. Quindi ai miei figli io voglio lasciare questa speranza, facciano quello che vogliono nella vita, ma se vogliono restare qui, e sono io il papà che deve anche cercare di aiutarli in questo, io non voglio che i miei figli si laureino necessariamente, non voglio che i miei dati, degli ingegneri, degli architetti, dei medici, non ho questo orgoglio. Se i miei figli mi diranno un giorno che vogliono mettere un ristorante o vogliono suonare la zampogna, io sarò felicissimo perché li avrò vicini.